questo è Wonderland nelle puntate precedenti Maria Maria Maria, 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 Maria oh Dio, 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 che catena Maria, mi, Maria, aspetta Maria spala la barba Maria, vai Maria, vai Maria, mi puoi ciucciare un attimo il ditone del piede che mi eccita di brutto che schifo Maria, vado eh vai, sei il mio Sandokan, vai tira fuori la spada dai che ci facciamo le fere adesso Maria, Maria, Maria sta facendo le basette vengo, vengo, vengo vengo, vengo me lo fate secchiare attorno inizia col mio, vai Maria senti, ma se veniamo a trovarti mi piacerebbe molto benissimo benissimo dai, dai incomincia con la tua incomincia? con la tua sa che preferisce te comunque eh, lo so però ragazzi perché siamo amici no, no Maria, Maria intanto che glielo buschi a Enzo io gli spengo la sigaretta sulla schiena vai, vai, vai no, no aia che brucia Cristian de Sica no, senti Maria ma lei ti chiamo più tardi in privato e facciamo ancora, ancora vuoi dire il mio numero di telefono? sì, sì, sì senti ma Maria, puoi dirmi Cristian de Sica lo suca sai che dovresti fare l'attrice porno è una voce proprio bellissima fai sentire? senti, c'è il mio amico Spine che ha la s*****a di piedi l'ha poi come si c'è? spatola, spatola le scappole che jolly che jolly che ho trovato ma la santina lei continua lei continua lei continua poi è giovane questa voglia portarla alla mo no sì, sì figa ma illustrati golly al telefono fai sentire il telefono dentro la bocca vai dentro in fondo la bocca spingi sto c*****o il telefono in gola in gola no no deep throat deep throat adesso parla col telefono in bocca parla col telefono in bocca di qualcosa di porco ti chiamo dopo ma che spatola usi? puoi incominciare vai picchietta picchietta bene il telefono sul c*****o e si amore io lo voglio saccare ma scusa se metti il telefono dentro qui ti chiamo e si sente squillare no amore io non riesci a sentire il mio puntino capito? ah capito capito amore va bene dai ma adesso ti ripeto vai amore dai dai penso? sì sono qua dai mi metti in bocca sì o no sì tieni 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 vai come andrà a finire sorgia ok 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 butta giù butta giù che l'abbiamo grazie butta giù Luca come butta giù forse butta giù lei più facile madonna bravi bravi ma cosa ho trovato ragazzi ma cos'è sta qua mamma mia questo è proprio all'infinito però bisogna giocare questo è squilibrio uomo squilibrio porca troia ma se ti metti il telefono nel culo poi ti sento no no madonna questo è wonderland io non ho parole ragazzi mamma mia io ce ne avrei ma non sono radiofoniche wonder onesto onesto hai visto le foto di questa qua no 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 sì sì secondo me secondo me no no e si scoprì e si scoprì che era la mamma di Alba no no ma che cazzo guarda che nome è vergine ignorante ma come fa ad essere vergine è vergine è vergine come fa ragazzi ci risentiamo domani dalle due le quattro grazie a Pippo Palmieri DJ Spine secondo me grazie alla chicca il mago Wender Luca Alba il più bello del mondo signori non serve niente non serve niente grazie a Fabio Elisei da Mazzoni è tutto ci risentiamo domani grazie alla Cumpa di Viaturati e soprattutto la grande famiglia sulla pagina di Facebook lo Zodi 105 ciao domani ciao ciao non c'è niente no c'è niente ce l'ho ce l'ho ce l'ho no no noi siamo lo Zodi ma che non succede niente lo sai che non succede niente non succede niente ma non succede niente ignorante madonna ma